Buonasera a tutti e benvenuti a MupinTalk. Io sono Andrea Poltrionieri e stasera vi parlerò assieme ai nostri ospiti di un argomento molto particolare, il retro coding. I nostri ospiti stasera sono Francesco Sblendorio, programmatore Java e appassionato di informatica d'epoca. Ciao Francesco. Ciao, buonasera a tutti. E Fabrizio Caruso, anche lui programmatore C++ e anche lui appassionato di informatica storica. Ciao a tutti. Sì. Innanzitutto, ragazzi, presentatevi, dite un po' al nostro pubblico chi siete e come vi è nata la passione per la retroinformatica. Francesco? Sì. Allora, io, come hai detto tu, poc'anzi, oggi faccio il programmatore Java, ma, diciamo, il mio mestiere nasce da tanti anni fa, quando ero ragazzino. Come è una storia comune a molti di noi, cioè, da ragazzino, mio papà mi ha regalato un Commodore 16, per altri è stato uno Spectrum o un MSX, e niente, di lì è nata la passione. Non sapevo cosa fosse, ho scoperto che cosa interessante potesse essere un computer, e di lì, insomma, quindi il mio essere appassionato di informatica d'epoca ha radici, diciamo, nella mia storia. E tu invece, Fabrizio, cosa ci dici? Io ho un percorso simile, quindi, da ragazzino, da bambino, programmavo su un Commodore 64, fu amore a prima vista, poi nella vita ho fatto e sono l'informatico di mestiere, ma adesso, negli ultimi anni, mi sono rimesso a scrivere codice per queste macchine. Codice per queste macchine, cioè, a fare retroprogrammazione, programmare per macchine antiche o comunque superate, esattamente però, questa definizione è un po' vaga. Voi, dal vostro punto di vista, cosa definireste la retroprogrammazione? Ognuno per come la vede? Innanzitutto, Francesco, cos'è il retrocoding, la retroprogrammazione? Allora, per me, io la definirei una ricerca filologica. Cioè, è come quando a scuola, io ho fatto il liceo scientifico, è come quando studi latino, cioè, tu studi una lingua che non c'è più, per capire come si è arrivato, come si è arrivati oggi. E scoprire, cioè, vabbè, scoprire, far scoprire, se fai un po' di divulgazione, perché se ci sei cresciuto lo sai, che una macchina che ha 30 anni fa esattamente le stesse cose che fa una macchina oggi, cioè fare calcoli. Quindi, è un viaggio nel passato per scoprire l'origine di quello che facciamo oggi. A me piace questo aspetto. Conoscere il passato per comprendere il presente. Esatto, ma a volte diventa anche una sfida, diventa anche una specie di gioco incastri, perché le risorse che hai oggi, ovviamente, sono milioni di volte quelle che avevi in passato, anche se quello che fai alla fine è lo stesso. Ed è anche una sfida intellettuale. Invece, Fabrizio, tu sei d'accordo con questa definizione, questa visione della programmazione su macchine storiche? Hai qualcosa da aggiungere? Sono perfettamente d'accordo, perché sicuramente c'è un intento storico o archeologico, se vogliamo. Cioè, quello di scoprire il passato, di capire anche quello che siamo oggi. Quindi, sicuramente questa, la definizione di Francesco, è corretta. Volevo fare però un distinguo, non rispetto a quello che ha detto Francesco, ma sulla definizione di retrocoding, perché per capirci, per me retrocoding significa scrivere codice per queste macchine, per le macchine vintage, e non necessariamente scrivere codice su macchine vintage. Ovviamente si può scrivere codice su macchine vintage, per fare codice per le macchine vintage, ma si può anche scrivere su un emulatore, su un simulatore, o addirittura si può scrivere su PC. Si può fare del cross development, l'argomento è vastissimo, non voglio inoltrarmi adesso su questi dettagli, però diciamo, si può fare in tanti modi diversi, ma la finalità è sicuramente quella che ha dato Francesco, la finalità storica, anche archeologica, scoprire cose non note, non ovvie. E poi c'è anche la finalità ludica, non lo nascondiamo, è divertente, c'è una finalità didattica, perché queste macchine, essendo più semplici e più dirette, si programmano con meno astrazioni rispetto alle macchine moderne. Quindi si può mettere veramente le mani nell'hardware, si tocca l'hardware, è un po' come programmare un microcontrollore, quindi c'è anche l'aspetto didattico, secondo me. Interessante questo discorso dell'aspetto didattico. Potrebbe avere un aspetto didattico preponderante la programmazione su macchine d'epoca, o per macchine d'epoca, probabilmente per macchine d'epoca sarebbe più adeguata, perché potrebbe mischiare la didattica appunto all'aspetto ludico. Ah, ho scritto un programma per un Commoda 74. Ritenete che abbia una valenza didattica, potrebbe avere una valenza didattica generalizzata? Fabrizio l'ha appena accennato, Francesco tu cosa ne pensi? Sì, sono assolutamente d'accordo, chiaramente va contestualizzata. Io personalmente lo faccio, soprattutto perché mi diverto tantissimo su questa cosa qua, però l'aspetto didattico va contestualizzato, per esempio, sull'utilizzo delle risorse. Per esempio, io una volta ho ottenuto uno speech su questo argomento, sulla retroprogrammazione, durante la Global Game Jam a Milano. C'è stato un evento presso un istituto e io ho fatto un intervento di questo tipo. La Global Game Jam, per chi non lo sapesse, consiste in una gara mondiale in cui si dà un tema e in un giorno, o insomma, in un tempo limitato, va sviluppato un gioco con quel tema, per qualunque piattaforma. Si parla soprattutto di piattaforme nuove. Io ho spiegato ai ragazzi che, mentre in quel caso la risorsa limitata era il tempo, retroprogrammare significa avere come risorsa limitata la memoria e la velocità, insomma, la banda di calcolo. Quindi sicuramente è un esercizio utilissimo per lavorare in ristrettezza e in scarsità di risorse. Può essere molto formativo questo. Sì, assolutamente. Sì, no, se finisco un attimo. Certo. Io sto programma in Java, chiaramente, su architetture enterprise, quindi, ma anche in quel caso, a volte, cioè, no, a volte, sempre, bisogna scegliere la struttura giusta per contenere un certo tipo di dato. Se qualcuno ha programmato in scarsità di risorse, sa benissimo che una certa struttura è più efficiente dell'altra, anche se lanciandolo sul proprio computer non te ne accorgi perché sono veloci, ma in realtà quando vai in un ambito di produzione te ne accorgi come. E aver lavorato con macchine con pochissime risorse è qualcosa che ti torna utile. Fabrizio, tu concordi con questa visione didattica? Raggiungo una domanda. Esiste qualche progetto di didattica organizzato legato all'retrocoding che voi sappiate? Una curiosità che adesso mi è sorta. Allora, so, per certo, perché collaboro, che esistono corsi di storia dell'informatica in cui l'argomento retroprogrammazione viene anche utilizzato ai fini didattici. Per esempio c'è un progetto a Pise, in cui collaboro, in cui si scrive anche codici su macchine di altri tempi, insomma, per conoscerle. Il fatto di programmarle è finalizzato alla conoscenza di quelle macchine, è finalizzato alla storia, il fine lì è la storia e l'archeologia. So anche, in maniera indiretta, che in alcuni corsi quando si studia l'assembly spesso si parte da macchine 8-bit esistenti, macchine del passato. Credo che si usino i Motorola 68000, alcune macchine che hanno un assembly particolarmente semplice, vengono tuttora usate in alcuni corsi, soprattutto perché sono macchine che possono essere usate come microcontrollori. Esiste sui microcontrollori molti punti comuni, quando si programma sugli 8-bit degli anni 80, si programma sostanzialmente come si programma oggi un microcontrollore. Un microcontrollore oggi si programma in assembly o in C, prevalentemente, i linguaggi che... e si programma con una ristrettezza di risorse estrema, anche oggi su alcuni Arduino, ai pochi K, ai pochi registri, ai poca potenza di calcolo, e tra l'altro, alcuni strumenti di sviluppo sui microcontrollori si usano oggi per programmare alcune architetture 8-bit degli anni 80, che non sono mai morte. Cioè, lo Zylog 80, per esempio, esiste ancora, esistono delle CPU prodotte adesso che sono compatibili con lo Zylog 80 o col MOS 6502, ne esistono di nuovi, sono a 16-bit, sono compatibili con quelle architetture lì, insomma, quindi sì, esistono dei punti comuni e sottolineerei anche l'aspetto comune è quello della programmazione dei microcontrollori. Interessante. In questi primi minuti abbiamo saltato e Fabrizio l'ha evidenziato tra il tema di programmare per vecchi computer, perdonatemi se uso una terminologia molto naif, e programmare su hardware d'epoca. È una differenza di stile, è una questione ludica, è una questione pratica, è più semplice utilizzare un sistema di cross development a mezzo a una macchina nuova, ma è più stiloso utilizzare effettivamente una macchina vecchia, sono divisioni filosofiche diverse. Francesco, tu cosa ne pensi? Dipende da quello che vuoi fare. Premesso che anche negli anni 80 le grosse software house che non fossero fatte da ragazzi che programmavano in cameretta, già allora venivano utilizzati i sistemi cross development, per chi programmava per, in sostanza, il NES, il Nintendo, non è che programmava sul NES, perché il NES non ha neanche una tastiera, ma anche per C64 c'erano grosse software house che lavoravano in cross development. Si tratta di quello che vuoi fare. Io ho fatto sia una cosa che l'altra. Mi ricordo qualche anno fa, proprio per, come dire, per fare un personale viaggio nel tempo, mi sono messo a scrivere su Commodore 128 in modalità CPM, utilizzando il Turbo Pascal per CPM, il gioco delle otto reggine con una semplice interfaccia grafica. Avevo, diciamo, scoperto il CPM perché all'epoca ne sentivo solo parlare, ma non avevo il Commodore 128, non avevo il 1571 e quindi non potevo utilizzarlo. Ho studiato il CPM qualche anno fa, ho la sua storia, come è nato, perché è stato superato, una storia interessantissima che possiamo anche raccontare, e ho quindi voluto tornare a quel tempo per scrivere un gioco per Commodore 128 in CPM. E così, questa è la versione DOS, questa che state facendo vedere, comunque è molto simile alla versione che c'è su CPM. E ho ricopiato, è un gioco che quello lì per DOS, che ho fatto tanti anni fa, l'ho fatto per CPM. Allora mi sono armato di una REU 1750, quindi un'espansione RAM che faceva da RAM disk, ho tenuto il computer acceso per una settimana perché è più veloce la RAM disk, con tanto di gruppo di continuità per evitare sbalzi di corrente. Quindi alla fine giornata salvavo sul floppy il sorgente, ed è stato molto divertente, perché il Truro Pascal 3 è una versione molto primitiva, diciamo, del Truro Pascal. Addirittura i file non hanno nemmeno la funzionalità di append, cioè su DOS sì, ma non su CPM. Quindi ho dovuto cercare un post su Gofer, addirittura, in cui si parlava su come implementare in Assembly Z80 la funzionalità di appelli, inserire in Turro Pascal 3, quindi lavorare in completa ristrettezza di risorse, tranne il RAM disk che era roba da ricchi all'epoca, ed è stato divertente. Volevo proprio avere un'esperienza full immersion nel passato. Se invece lo scopo è sviluppare un qualcosa da distribuire ad appassionati, oppure semplicemente, come sto facendo in questi giorni, con un amico che si chiama Nino Porcino, lo saluto, stiamo scrivendo un progetto musicale per suonare con il Conor 74, allora lavoriamo con un PC e con il cross compiling, perché ha assolutamente senso, anzi, non ha assolutamente senso non farlo. Scusate se mi sono dilungato. No, no, figurati. Hai vissuto un'esperienza come se tu fossi in un'altra epoca, però ricco, perché avevi il RAM disk, che sicuramente non era una cosa alla portata di un ragazzo che sviluppava in cantina. No, però è stato molto bello. Mi sono proprio immerso, mi sembrava di essere in loro negli anni Ottanta. È stata come un'esperienza mistica, diciamo. È stato molto divertente. Con la colonna sonora di Ghostbuster, cross-dietro. Esatto, esatto. O ritorno al futuro. Fabrizio, tu sviluppi su hardware vintage o cross compili? Io cross compilo o comunque uso un editor se devo scrivere in un linguaggio interpretato, come per esempio il Basic, lo faccio su PC. Quindi faccio cross development. Anche se sicuramente l'esperienza di catarsi, forse, di programmare direttamente sull'hardware fisico voglio farla ma avrei paura per esempio di perdere i dati, perdere il programma, insomma, forse con un'espansione di memoria che fa da RAM disk e un gruppo di continuità perché il rischio è di perdere i dati oltre la lentezza che hai. È un'esperienza sicuramente, capisco il motivo che ha spinto Francesco a farlo così ma oggi ci sono due possibilità per farlo in maniera più efficiente. Una è quella di usare la macchina vintage ma emulata. Quindi lo fai allo stesso modo diciamo, teoricamente come lo faresti sulla macchina vintage ma la macchina emulata puoi più facilmente salvare i dati, la macchina la puoi accelerare, puoi fare tante cose più velocemente. E questo è quello che fanno molto quelli che usano, che vogliono scrivere codice per macchine a 16 bit come Amiga o Atari ST. Usano spessissimo la macchina emulata perché sono macchine che di per sé sono già abbastanza potenti. Su queste macchine possono girare dei compilatori nativi però è in emulazione, ma nativi molto veloci. Mentre per gli 8 bit che sono le macchine per cui io programmo di più l'emulazione non ti aiuta abbastanza quindi lo faccio su PC. Grazie, grazie. Segnalo che un attestato di stima da un commentatore per chi programma su un Comodo 128 vero. Scusate. È molto bene come esperienza, ti rilassa tantissimo. se hai qualche problema che ti fa incazzare, ti chiudi nella tua... come fare un mandala, diciamo così. Molto bene. Sì, sì. È un'attività che di per sé non ha uno scopo, non è produttiva, è fine a se stessa e ti aiuta a non pensare ad altro. Esatto, molto piacere. Affascinante, affascinante. Io invaderei un po' il vostro campo privato. Avete entrambi raccontato di essere informatici di vecchia data, esservi appassionati dell'informatica da giovani e poi aver proseguito. Ma com'è, se si può trovare il momento in cui vi siete passati dal sviluppare software su macchine attuali a sviluppare software su macchine che non erano più attuali in quel momento, perché mi pare di cogliere che professionalmente avete fatto un percorso che ha portati oggi a sviluppare su macchine attuali, ma c'è stato un momento in cui invece per passione si è rimasti a qualcosa del passato oppure si è riscoperto. Come avete iniziato? Come siete avvicinati a questo mondo della retteprogrammazione? Francesco? Sì, allora io mi sono imbattuto nel lontano, forse era il 98, forse era il 98, il 99, in un newsgroup che si usava nel newsgroup è ItCom Retrocomputing in cui credo che molti di noi conosco, si siano ritrovati. Lì ho conosciuto anche Elia che è il vostro collega del Mupin, quindi l'ho conosciuto lì. Anch'io, anch'io. Ho scoperto questo newsgroup e mi ha affascinato perché comunque il lato sentimentale di queste macchine, io sono molto sentimentale, comunque l'ho sempre conservato, e scoprire che esistevano altre persone come me mi ha stupito e mi ha fatto molto piacere. Dico, ah, non sono l'unico nel mondo che... perché fino ad allora mi divertivo un po' con... riguardo il mondo retro con gli emulatori. Avevo scoperto UAE, l'emulatore Amiga che girava su MS-DOS all'epoca, era UAE per DOS, e poi c'era il CCS64, sì, si chiama CCS64, l'emulatore di 64, però poi ho scoperto che c'era gente che utilizzava i vecchi computer e dico, ma che bello. E allora ho cominciato insomma a leggere, a interagire con le persone, a frequentare i mercatini, diciamo, ho cominciato così. Una bella storia. E Fabrizio, invece, ha un percorso simile, qualcosa di diverso? Anche tu sei stato su Eatcom Petro Computing? No, no, non sono stato lì, sono sempre stato incuriosito dagli emulatori, dalla possibilità di, diciamo, di ingannare la macchina a fargli credere di essere un'altra macchina, ma, quindi, questa è stata una fase in cui ero un semplice utente degli emulatori, uno smanettone, ma, a un certo punto, quattro anni fa, mi sono imbattuto in un cross compilatore C, che permette di fare qualcosa che per me aveva del magico, cioè, scrivere codice C, che è un linguaggio tutto sommato ad alto livello, insomma, non del tutto, insomma, di medio livello, che scrivere codice C che per un'infinità di architetture 8-bit basate sulla CPU MOS 6502, e mi ha un po' attratto il fatto che si potesse usare lo stesso codice su un Commodore 64 e una Nintendo NES, per esempio, posso scrivere in teoria lo stesso codice, esattamente lo stesso codice e poi ottengo, ricompilandolo con questo cross compilatore, lo stesso gioco, lo stesso programma su una console NES e su un Commodore 64, almeno in teoria, in pratica non è ovvio, in teoria io l'ho fatto anche in pratica, però questo mi ha dato la voglia di scrivere una di cominciare un progetto in cui un progetto in cui ho costruito sostanzialmente una abstraction layer che permette di scrivere codice universale su pressoché qualunque architettura 8 bit e non solo 8 bit il progetto nasce come cross chase che è anche un gioco ma non vuole essere limitato ad un singolo gioco vuole essere una sostanzialmente una libreria un insieme di api che permettono di scrivere giochi universali questo per esempio che state vedendo adesso è un gioco si chiama cross chase che gira su Atari i800 quindi l'Atari 8 bit del 1979 e questo stesso gioco lo ricompilo questa è la versione Vic 20 lo ricompilo su 200 diverse architetture quindi computer console console portatili anche calcolatrici scientifiche come per esempio le calcolatrici scientifiche della Texas questa è la versione ZX81 bianco e nero con i soli caratteri utilizzando lo stesso identico codice cioè tutto quello che state vedendo è lo stesso gioco con lo stesso identico codice scritto con linguaggio C e la mia libreria che fa da da astrazione dell'hardware quindi ho scritto una una retro hull sostanzialmente quindi se ho capito bene tu sviluppi su una macchina moderna compili con una toolchain attuale utilizzando un certo framework e poi compili con architetture target diverse queste 200 architetture antiche non compilo con un framework compilo con un meta framework cioè ho un framework di framework uso più di una dozzina di dev kit perché compilo per qualunque architettura o quasi qualunque architettura per esempio sugli 8 bit compilo anche per i motorola della serie 68000 dei motorola ovviamente Zylog 80 MOS 6502 ma anche per l'Intel 8080 anche per cose molto esotiche come i Cosmac 1802 che sono le CPU che girano su sulle sonde spaziali sostanzialmente cioè il mio gioco gira quali sonde spaziali non quelle lanciate oggi credo no ma sull'Abol Telescope c'è stato questo su uno c'è stato anche questa questa CPU perché questa la Cosmac 1802 è una CPU che è stata costruita anche in una versione resistente sostanzialmente alle radiazioni e alle temperature estreme e quindi è un'architettura degli anni 70 addirittura negli ultimi giorni sto lavorando soprattutto per estendere il meta framework se vogliamo sostanzialmente sono delle api non è ho semplicemente astratto l'hardware espongo delle api comuni per una miriade di architetture diverse non non sono l'autore dei compilatori ovviamente io collaboro con i compilatori apro a loro tanti ticket tante bug certe volte faccio dei bug fixing io stesso faccio delle pull request sistemo alcune cose soprattutto nelle librerie non nel compilatore vero e proprio i compilatori non li ho mai toccati direttamente faccio delle o dei bug apro dei bug o li correggo io quando quando ci riesco ma lo faccio per una miriade di attualmente sono più di una dozzina i cross compilatori che uso io complimenti complimenti un risultato tecnico di cui sei molto orgoglioso immagino si sono molto contento ma è un lavoro enorme che non finirà mai sostanzialmente perché aggiungo sempre nuove nuove architetture e voglio vorrei che divenisse veramente una quello che già è in parte cioè una qualcosa di totalmente indipendente dal gioco che ho fatto ne ho fatti un paio cioè vorrei che venisse rilasciato come una specie di meta dev kit perché ancora ho qualche dipendenza col tipo di gioco che faccio io col tipo di giochi che ho scritto io quindi non è un progetto finito ma è a buon punto ed è già utilizzabile complimenti complimenti mi dicono mitico Fabrizio dal pubblico calcolatrici texas anche la t92 la mia amata t92 no credo che la t92 abbia un 16 bit il 68000 per quello c'è un altro dev kit che devo integrare che è una variante del gcc per texas ma alcuni problemi è un po' bagato l'ho considerato allora il mio diciamo framework nasce soprattutto per gli 8 bit ma l'ho anche già esteso agli 16 bit cioè posso compilare anche in maniera molto sperimentale per Amiga per Atari ST allora ci conto di averlo per la 92 prima o poi il problema è che io dipendo dal compilatore cioè se il compilatore non mi compila il mio codice che è innanzi c ho dei problemi comunque sì non lo escludo devo riguardarlo esiste una versione di gcc per quel per le calcolatrici tex a 16 bit ok ok è un progetto notevole devo dire Francesco invece tu come retroprogrammatore hai un progetto un risultato tecnico di cui sei particolarmente fiero o che ti ha dato particolari soddisfazioni anche a livello di pubblico sì allora più di uno cominciamo dal più antico sempre quando ho lavorato con cpm allora il cpm penso che sia uno degli argomenti più interessanti del mondo 8 bit in assoluto secondo me perché ecco abbiamo ascoltato il progetto di Fabrizio per cui lui ha ottenuto una compatibilità a livello disorgente pressoché totale il cpm invece che gira su macchine molto diverse fra di loro e che hanno in comune solo la cpu lo z80 ha una compatibilità binaria con tutte le altre macchine che fanno girare il cpm questa cosa che abbiamo molto affascinato è quindi lavorare sul sistema operativo che non si usa più con un linguaggio che non si usa più e che non è mai entrato oltre la fase beta ho scoperto il turbo modulo A2 la Borland stava sviluppando il turbo modulo A2 non l'ha mai rilasciato tra l'altro l'autore del turbo modulo A2 è Odersky che è l'autore di Scala per chi conosce Scala è lui che ha programmato il turbo modulo A2 che si può scaricare come abandonware lo sviluppo del turbo modulo A2 è stato abbandonato in favore poi del turbo Pascal 4 che ne eredita una gran parte delle funzionalità quindi ho scoperto questo compilatore per CPM mai rilasciato e mi sono detto perché non faccio proprio una ricerca filologica cioè provo a scrivere un gioco che giri su tutte le macchine CPM utilizzando un compilatore che mai nessuno ha mai utilizzato questo potrebbe mai andare storto infatti è un po' buggato ma è stata anche questa la sfida la differenza per le macchine CPM è appunto allora il punto di forza è il punto di debolezza è l'input output mentre per esempio le macchine MS-DOS diciamo l'output a caratteri spesso è ottenuto scrivendo nella memoria con un accesso diretto alla memoria memoria e video il CPM di per sé non fornisce questa funzione a meno che non andare nel dettaglio della singola macchina il che lo rende automaticamente non cross platform il CPM è basato sul terminale ci sono vari terminali diversi io ho scritto una libreria cross terminal non cross platform cross terminal che ha funzioni del tipo cancella schermo posizione a cursore cancella riga cambia colore se disponibile o no in modula 2 e poi ho scritto un gioco che è il gorilla il gorilla il famoso gorilla punto bus che c'è sotto quick dos l'ho scritto in modula 2 ma per CPM è lo stesso codice eseguibile lo stesso punto com perché l'estensione punto com come così che per le origini che ha il DOS del CPM gira su qualunque macchina CPM ecco tutta una serie di terminali che ho previsto fra cui il classico VT100 l'ADM31 che è implementato dalla Commodore 128 anche il Memotex MTX ho implementato e tutta una serie di terminali è stato molto bello questo qua a livello di pubblico scusate a livello di pubblico non ha avuto tanto successo un altro progetto invece un progetto che ha avuto molto successo a livello di pubblico è un ecco questo l'ho scritto come diceva Fabrizio prima su un emulatore di CPM su macchina moderna quindi su un PC invece ciò di cui parlavi prima è stato sviluppato su macchine antiche su le otto origini su macchine antiche invece questo modulo sull'emulatore CPM su un computer moderno un progetto che invece ha avuto tanto successo a livello di pubblico è un progetto di cui sono coautore nel senso che mi sono inserito è scritto con il compilatore che dico con la Fabrizio il C65 è l'Ultimate Term cioè un emulatore di terminale per accedere alle BBS con un Commodore 64 utilizzando la 1541 Ultimate o una Ultimate 64 c'era un post di un mio amico che si chiama Federico Didato che saluto ciao Federico è colpa sua se mi sono buttato in questa roba che segnalava questo programma che si chiama Ultimate Term che c'era già che però presentava vari bug andava in crash in alcuni casi e aveva dei problemi in realtà era semplicemente una demo di una libreria cioè lo scopo del repository da cui insomma è stato tratto era la libreria per lavorare con la Ultimate Term allora io ho scoperto che era open source ho contattato l'autore ho detto senti posso entrare nel team di sviluppo lui fa prego allora ho preso in mano l'Ultimate Term in forma come dire prototipale e l'ho fatto diventare un prodotto finito è scritto in C per Commodore 128 a 80 colonne e per Commodore 64 ovviamente a 40 colonne e questi sono alcune BBS visualizzate che si possono navigare tra l'altro con un altro mio progetto di cui poi vi parlerò e niente adesso Ultimate Term è molto utilizzato su CSDB e ha raggiunto una forma piuttosto matura questo è avuto molto successo e se ho ancora un po' di spazio vi parlo dell'altro progetto che mi piace tanto posso? ma certo se ti piace tanto è che invece ha avuto più successo ancora nel senso che ci sono delle persone dall'Australia e dall'America con cui sono in contatto che lo stanno utilizzando e questa cosa mi rende molto felice cioè sono poche le persone con cui sono in contatto ma il fatto che siano così lontani mi piace è in pratica un framework che non è sviluppato su computer antichi non gira su computer antichi ma si utilizza su computer antichi in che senso è un motore server back-end per generare delle BBS in patchy quindi si chiama patchy BBS Builder sono quelle che abbiamo visualizzato prima il computer che abbiamo visualizzato prima era la mia BBS un esempio di applicazione esatto sono degli esempi scusa cos'è il patchy non è detto che hai ragione hai ragione perdonami perdonami il patchy è il set di caratteri dei computer commodore autobit che quindi comprende lettera maiuscola e minuscole numeri simboli grafici e caratteri di controllo tipici per il cambio colore per il posizionamento del cursore cancellazione schermo eccetera somiglia molto anche se non è assolutamente la stessa cosa al televideo diciamo così anche se è completamente diverso quello che ho sviluppato è un questo è un televideo simulato con il mio framework il framework gira su un computer Linux o Windows ed è un processo server fornisce una serie di primitive quindi un DSL un domain specific language in cui il programmatore della BBS sviluppa le funzionalità una volta lanciata sul server qualunque comodo al 64 collegato in rete tramite varie soluzioni che può essere il modem wifi o la ultimate 2 o una scheda RRNet compatibile si collega la BBS e niente la naviga esatto questo qui è un esempio è la mia BBS nel senso che utilizzo il mio framework in cui visualizzo dei post si chiama il post il giornale di siti scritti in wordpress dovrebbero esserci delle foto anche in cui visualizzo i vostri post del moving perché perché ce l'avete in wordpress queste persone con cui sono in contatto di cui dicevo ecco esattamente questo è il vostro sito essendo autoreferenziale come guardare dentro uno specchio parlare poi di un open talk esatto di questo open talk c'è proprio il post di oggi queste persone di cui vi parlavo sono uno è americano l'altro è australiano hanno scritto le loro BBS con il mio framework di questo sono molto contento uno di due addirittura mi ha detto non conoscevo java ma dal momento che il tuo progetto era interessante mi sono messo a studiare java cioè questo qui non conosceva java l'ho scritto in java perché è semplicemente il linguaggio con cui lavoro più spesso e si poteva fare anche in python o in altre ecco mi sono soddisfatto e lui si chiama Jeff Jeff ha detto mi piaceva l'architettura di questo framework ho imparato java e adesso ha fatto una BBS che ha imparato java poi c'è stata un'altra persona che ha scritto una finta BBS cioè una BBS che ha utilizzato per fare un video ah questo è il gorilla questo scusate torno indietro questo è il gioco gorilla in cpm guardate a sinistra c'è un comodo 128 a destra c'è un amstrad cpc 6128 come vedete a sinistra il 128 è a colori perché il terminale implementato consente colori invece sul cpc il terminale implementato in modalità cpm non ha i codici controllo colori anche se di colori ce ne ha tantissimi in un stato cpc e quindi diciamo downgradato diciamo automaticamente downgradata la grafica però il gioco è lo stesso vedete viene visualizzato e il codice eseguibile è lo stesso è il proprio codice macchina eseguito identico la cosa bella ecco questo risponde risponde a una domanda che ci facciamo al pubblico il software cpm funzionerà ugualmente su qualunque computer cpm esatto esatto quello che cambia è il trattamento dei codici di controllo del terminale dipende da che terminale hai collegato perché se viene implementato o colleghi fisicamente per esempio un kpro ha un terminale il kpro c'ha già il suo schermo diciamo l'altair 8800 vt100 userei dei codici diversi se hai un terminale adm31 e questo avveniva anche nei software d'epoca tipo wordstart quando partiva ti chiedeva su che terminale sono e tu gli chiedevi gli dicevi vt100 e lui usava i codici di controllo vt100 se gli dicevi adm3a lui andava in adm3a cioè il software oggi penso su linux ci sia qualcosa che si chiama terminfo che fa qualcosa di simile è in automatico mentre allora dovevi dirglielo tu all'avvio ma il binario è lo stesso solo che il binario deve se è fatto in maniera da funzionare su più terminali deve avere una parte di codice che è per ogni tipo di terminale ma è una parte veramente minuscola del codice che deve gestire i codici di controllo e gli escape codes anche diversi per questi quindi il software d'epoca cpm avrebbe funzionato su qualunque hardware al netto della configurazione della selezione del terminale collegato era arcodato nel codice cioè wordstar penso che ti chiedesse tre aveva tre opzioni penso che Francesco ne abbia messo più di quelle che c'erano un tempo sì sì ne ho messe otto nove non mi ricordo però penso che ne avessero quattro alcuni software non ne avevano alcuni software giravano solo sul terminale vt100 vt52 alcuni avevano l'opzione per essere più universali ecco una sfida che lancio a chi ci ascolta perché non ci sono riuscito è a implementare i codici di escape del cpm per comodoro 64 perché comodoro 64 ho una cartuccia z80 con cui puoi lanciare il cpm va lentissimo che è una cosa incredibile non sono riuscito a capire quali sono i codici di escape che utilizzo se qualcuno mi vuole dare la mano è un implemento pulso c64 un appello un appello al pubblico se riuscissimo a emularlo magari ci si prova sì bisogna cercare di capire se si può emulare la cartuccia z80 perché è una cartuccia con dentro un computer in sostanza non è proprio una cartuccia normale e non doveva neanche essere una cosa molto diffusa se era stata anche piuttosto costosa costosa e poi girava soltanto su alcune revisioni della scheda madre quindi una cosa una cosa veramente di nicchia i software che avete citato e che avete sviluppato se si potessero mandare indietro nel tempo sarebbero software di successo di grande uso mi chiedo ma oggi c'è un ritorno economico esiste un business legato al retro coding c'è un mercato esiste qualcuno che offre vende commercia non dico che diventa ricco ma esiste un qualche tipo di mercato o è solo una passione i retro programmatori sono spinti solo dalla passione e dal divertimento allora rispondo io prima Francesco poi Fabrizio ok allora io personalmente ho 50 anni o niente non credo che nessuno comprerebbe mai però c'è chi fa dei lavori veramente di qualità anche industriale e ora Citronic credo si chiami ci sono delle delle piccole aziende fatte da poche persone che fanno dei giochi per per plus 4 e per C64 li vendono anche su cartuccia di solito c'è il download libero o con offerta libera più per i collezionisti chi vuole l'oggetto fisico vendono proprio la cartuccia e sono dei gioiellini sono veramente belli i giochi sono scritti con una cura maniacale veramente io li ho preso li ho preso tantissimo per esempio c'è Cannabalt di cui c'è anche si può scaricare gratis ma c'è anche la cartuccia è un bellissimo oggetto anche per incentivare il lavoro di queste persone con Cannabalt addirittura con un gruppo di amici per una per una primavera inizio estate in un bar di Milano abbiamo fatto un torneo e alla fine il vincitore ha vinto un Siga Mega Drive wow c'è chi riesce a chiaramente non diventi ricco la cartuccia costa quanto? 5 euro 6 euro 10 euro non è che puoi vendere chiaramente poi c'è un gruppo spagnolo pure che si chiama Amiga Wave fa dei giochi per Amiga è un disegnatore in sostanza più un programmatore il disegnatore ha un tratto molto particolare ce l'ho riconosci su si chiama Jojo 073 e fanno i giochi che puoi scaricare oppure ti vengono una scatolina con il flop per Amiga io per esempio ho comprato quello di Bud Spencer questo è Cannabalt questo è Cannabalt io ho comprato il gioco di Bud Spencer che si chiama Isino No Senfadamos che vuol dire altrimenti ci arrabbiamo in spagnolo tra i programmatori bravissimi eccezionali che conosco che fanno dei giochi fantastici per Commodore 64 c'è Antonio Savona che saluto se guardate sui giochi sono eccezionali ha fatto una riedizione completa di una trilogia di giochi per Atari 2006 portati su Commodore 64 ma non solo confermo Antonio Savona fa dei giochi stupendi e bravissimo non so se lui riesca anche a venderli in qualche misura confermo tutto quello che ha detto Francesco è un mercato di nicchia è la nicchia della nicchia è proprio però qualcuno si riesce a non credo che qualcuno riesca a camparci che qualcuno riesca a guadagnare qualcosina a pagarsi le spese sì parliamo di qualità inimmaginabile quasi negli anni 80 sicuramente possibile adesso sia grazie perché ci sono più conoscenze c'è internet insomma adesso è più facile scoprire tutto di una macchina mentre mentre allora no allora inoltre abbiamo avuto 30 anni di tempo per studiare la macchina non solo ma oggi si usa il cross development ed è molto più facile di bagare scrivere codice in maniera molto più comoda e quindi si riescono a fare anche cose incredibili si hanno conoscenze incredibili lo scambio di informazioni c'è quindi sono dei giochi che se li guardi adesso tu non credi ai tuoi occhi non credi che siano fatti con quelle macchine per esempio su alcune macchine un po' meno fortunate commercialmente come il Commodore 128 come il Commodore 16 o il Plus 4 sono fatti dei giochi adesso che sono a livello del Commodore 64 graficamente sono molto simili per certi aspetti migliori di quelli di un Commodore 64 perché qualcuno ha capito all'epoca non era possibile o almeno sembrava sono riusciti a fare cose assurde incredibili mi chiedono dal pubblico se c'è qualcuno che ha fatto anche Super Mario Bros per Commodore 64 come retro development si non noi no no non qualcuno di voi si è stato fatto si è stato fatto di recente si il programmatore si chiama Zero Page si conosce solo il nickname di questa persona non si sa chi sia ovviamente la Nintendo ha fatto sparire tutto però come dire il gioco si trova si trova ha fatto sparire ma non sparisce mai niente completamente oggi si trova la Nintendo ha minacciato non è ben chiaro se se sono minacce vere o presunte comunque si non ha gradito è una proprietà intellettuale di un certo valore esiste allora negli anni 80 esisteva una versione illegale che si è diffusa in Italia che era il Genna Sisters Super Genna Sister penso che si chiamasse che era un clone Genna Sisters no? Great Genna Sisters esatto Great Genna Sisters che è un clone ben fatto però in cui i movimenti non sono esattamente gli stessi non è fluido come Super Mario Bros ma adesso invece hanno fatto un clone molto fedele che addirittura sfrutta la potenza di calcolo di un Commodore 128 se gira su un Commodore 128 sfrutta il dual seed se hai un doppio seed quindi ti permette di avere le quattro voci di una vera Nintendo NES quindi gira sfrutta anche hardware aggiuntivo sostanzialmente se glielo metti wow mi citano anche i Doomlike su Amiga OCS io l'ho soltanto visto un video non ho ancora capito se esiste veramente io allora può essere fatto facendo dei compromessi esiste una versione pure per Commodore Vic 20 quindi credo che di averne visto anche una suona sulla mia T92 se ricordo bene la T92 è un 16 bit molto potente un 16 bit un 8 bit molto zoppo insomma una macchina stupenda insomma però con tutta l'espansione arriverà penso a 40k con la massima espansione per far girare Doom Vic Doom si chiama ed è stato scritto con CC65 che è un cross compilatore che usiamo noi per questo tipo di architettura mi confermano che esiste il Doom per Amiga e che potete vedere nei commenti chi conosce potrete vedere nei commenti chi conosce l'autore originale ah guarda un Doom che gira su una T92 questo dopo i commenti lo scaricherò lo proverò subito allora si è capito che non c'è un grandissimo giro economico e si è capito anche che il lavoro tecnico che ci sta dietro è un lavoro di un certo livello cioè non è una cosa fatta male è un lavoro tecnicamente notevole la domanda che quelli più ingenui tra noi si possono fare perché lo fate cosa vi spinge a questa qual è la motivazione è una gratificazione come diciamo prima come fare un mandala un mandala un modo per concentrarsi Fabrizio tu perché perché dedichi il tuo tempo libero a questa attività ci sono ci sono varie varie motivazioni nel mio caso e suppongo ugualmente quello di Francesco non c'è la motivazione economica assolutamente lo faccio perché perché mi piace mi gratifica sicuramente non lo nego c'è anche un po' il sentimento di nostalgia per quell'epoca che è passata insomma per cui si fa anche per quello c'è anche un motivo un po' forse più serio quello da storico da archeologo ma è nostalgia di un'epoca che non hai veramente vissuto perché quando c'era il Vic 20 tu eri piccolo non no no io ho programmato su un Vic 20 io ho 47 anni e mezzo e non giochi più del Vic 20 io il Vic 20 ce l'ho avuto tra le mani bene bene vai vai continua pure quindi no 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 io ho cominciato il mio primo programmino l'ho scritto su un Commodore Vic 20 e poi ho avuto un Commodore 64 eccetera quindi quindi il piacere di programmare in generale che è un piacere che io ho anche programmando su macchine moderne il piacere della nostalgia e poi il motivo anche storico archeologico perché scoprire quelle macchine allora nel mio caso a me piace anche diciamo l'aspetto un po' più anche accademico collaboro con con l'Università di Pisa per fare ricerca in storia dell'informatica quindi ho fatto un lavoro accademico sulla storia del basic e degli home computer nei paesi dell'est negli anni 80 e continuo a collaborare con l'Università di Pisa quindi c'è anche un intento di ricerca insomma e poi c'è anche una cosa che ho citato prima che la programmazione a basso livello su queste macchine è molto simile alla programmazione moderna che si farebbe sui microcontrollori si programma con ristrettezza di hardware di risorse in generale si programma in C in assembly non è tempo perso ecco secondo me non è tempo sprecato e poi un esercizio mentale notevole un giochino che ho scritto in dieci righe di basic wow Francesco sei d'accordo? assolutamente sì in più aggiungo a livello personale la la curiosità e il desiderio di mettere mani su computer che quando ero un ragazzo o un ragazzino ho desiderato ma non potevo avere perché non potevo comprare tutto quello che volevo mi ricordo all'epoca c'erano i papersoft per chi non lo conosce erano delle rivistine ma penso che le conosciamo tutti sono delle rivistine in cui c'erano programmi da copiare per diversi computer e c'era per C64 per Spectrum per T99 io mi divertivo io avevo il Commodore 16 e poi il Commodore 64 ho avuto quando avevo i papersoft e usavo Commodore 64 e mi incuriosivo degli altri piattaforme quindi leggevo quindi come dire eseguivo nella mia mente il software per le altre piattaforme e per esempio il basic di 64 era poverissimo e leggevo invece comandi draw plot circle per Spectrum chissà chissà che cosa fanno posso disegnare un cerchio senza fare casino con le pic le poche che figata e poi mi sono divertito un po' che con gli emulatori per esempio per C64 c'era un simulatore di Spectrum non un emulatore perché linguaggio macchina ovviamente non poteva seguirlo essendo la CPU diversa però il basic lo implementava molto bene quindi poi col simulatore di Spectrum mi ero divertito a copiare i programmi per Spectrum e quindi quando è arrivata la passione retrocomputing ho detto adesso me li procuro me li compro e mi metto a divertirmi con lo Spectrum vero con i tasti di gomma mi sembrava qualcosa di molto esotico molto bello ma anche altri computer 128 negli anni 80 non ce l'avevo però leggevo i listati dicevo che bello i comandi per gli sprite che bello e adesso adesso lo faccio e niente questa è una motivazione gli altri concordo con Fabrizio cioè il lato storico per esempio se si studia in basic del Commodore 64 con questo paper soft come la generazione di numeri casuali in Java o C Sharp funziona esattamente lo stesso identico modo quindi capire che molte cose non sono cambiate capire come invece altre cose sono cambiate per esempio in nei linguaggi moderni Java C++ C Sharp quando si c'è un if una valutazione di un'espressione booleana c'è la short circuit in sostanza se devo controllare una condizione faccio un esempio and una seconda condizione se la prima condizione è falsa la seconda neanche la vado a guardare questa cosa qua sembra un semplice discorso di ottimizzazione che in passato non c'era in realtà non è solo ottimizzazione perché si può fare in modo se non c'è la short circuit evaluation entrambe le condizioni vanno valutate e potrei avere delle condizioni al contorno in cui la seconda condizione genera un errore durante la valutazione non so se riesco a spiegarmi forse sono troppo complicato ho scritto un articolo su Retro Academy se cercate short circuit evaluation su Retro Academy trovate la spiegazione in italiano non in non lo so in confusionese come sto dicendo adesso ho scritto proprio un articolo con degli esempi con vari linguaggi con più compilatori dello stesso linguaggio quindi come le cose sono cambiate anche nel mondo dei compilatori quindi come ci si è evoluti e questo quello che dici è molto interessante sì è vero che nei linguaggi di allora if A and B non è lo stesso non ha lo stesso significato semanticamente di adesso perché adesso se A è falso si ferma lì mentre loro no quindi deve valutare anche B e questo può avere degli effetti collaterali importanti e non solo l'ha detto l'italiano lui bravo perché ha avuto più tempo per pensare mentre tu lo spiegavi lui lo pensava esatto esatto e questo è interessante e se la regia mostra del codice in basic che ho scritto io di alcuni dei giochini vi vi faccio vedere vi parlerei di un'altra motivazione per cui oggi si può scrivere ecco questo qui che sembra georoglifico è un intero gioco che ho scritto in sole 10 righe con non più di 80 caratteri per riga in basic vintage che non è visual basic è un'altra cosa in questo basic vintage non esiste la short circuit evaluation ma if A e B vanno valutati entrambi A e B e questa è una cosa interessante perché qui questo è stato fatto per una sfida oggi come allora esiste la la scene insomma delle sfide tra programmatori in cui ci si sfida chi fa il gioco più più carino con le restrizioni più assurde come per esempio scriverlo in basic arcaico con solo 10 righe massimo 80 caratteri per riga questo si fa per il puro divertimento di farlo perché ed è una ed è una gara che ha avuto un successo enorme negli ultimi anni e si chiama basic 10 liner invito chiunque fosse appassionato o chiunque volesse imparare a programmare in basic e provarci non è difficilissimo anche se ci devi perdere delle ore è un gioco di sicuramente di creatività ma è anche un gioco un po' tecnico perché devi imparare a scrivere codice super compatto usando anche delle formule tanti trucchi puoi imparare dai trucchi degli altri perché in questa sfida che è avvenuta un paio di mesi fa questa sfida c'è ogni anno e il codice sorgente degli anni precedenti è pubblico e in più è spiegato quindi chi volesse divertirsi a fare un semplice giochino in sole dieci righe quindi in teoria si fa in una sera poi magari ci metti più di serate per sistemarlo farlo più bello fare la grafica più carina è una sfida divertentissima è un po' anche un gioco ad incastri una specie di sudoku un tetris se vogliamo perché non potendo superare gli 80 caratteri per riga e non potendo mettere troppi if perché un if in basic di quell'epoca non avendo blocchi non ci sono i blocchi del c del java javascript praticamente ti sprechi una riga ogni if sprechi una riga quindi devi ingegnarti e puoi fare dei giochi come quelli che state vedendo questo gioco è uno dei miei giochi scritto in dieci righe per un Commodore V20 si chiama Space Journey ed è un gioco con anche con un po' di grafica ci sono vari tipi di meteora ci sono dei missili che puoi prendere puoi sparare c'è una navicella disegnata tutto in soli in meno di 800 byte per un Commodore V20 questo partecipa a una gara non l'ha vinto anche se a me è piaciuto tanto come si è classificato io sono arrivato in quella categoria ho partecipato nella categoria più dura non perché voglio fare il figo ma perché mi piace di più la categoria con meno caratteri in cui devi devi mettere più formule hai più vincoli quindi in quella categoria sono arrivato quarto con un gioco che si chiama The Horde che è un gioco in cui devi uccidere degli zombie che ti vengono addosso ed è per il Commodore 16 quindi ho preso una medaglia di legno complimenti complimenti mi chiedono se i Ten Liner si fanno anche in altri linguaggi oltre al Basic se esistono Ten Liner in C o se è una cosa tipica che si fa in Basic io conosco allora il concetto di One Liner Two Liner penso che sia un po' universale i One Liner esistono pure in Python esistono tantissime sfide in linguaggi moderni e antichi io non sono a conoscenza di sfide moderne diverse dal Basic sul numero di riga ma su Assembly per esempio ci sono sfide da sempre sulla dimensione del binario tipo 4k 512 byte 1k questo è The Horde e questo è arrivato quarto ed è per il Commodore 16 scritto sempre in 10 righe con massimo 80 caratteri comandi un arco con una freccia e hai questi zombie che diventano sempre più veloci e ti vengono addosso e tu devi farli fuori colpendoli con delle frecce notevole e tutto questo è in Basic interpretato con i vincoli e con i bug e con i problemi e le contorsioni mentali che devi fare per scrivere in un Basic di quell'epoca mi fanno notare che l'Electro Coding è sotto gli occhi dei CTO delle grandi aziende che diventa un modo per conoscere gente veramente competente gente veramente capace ci sono un sacco di cose da fare in questo mondo non lo sapevo spero di una in una chiamata da parte di Google in ogni caso in ogni caso questo secondo me sarà anche vero in generale io lo faccio perché mi diverto ma sì mi può anche dare un po' di visibilità nel senso che comunque io mi alleno è comunque un esercizio mentale soprattutto quello che faccio in C non è così dissimile da quello che farei scrivendo in C per un microcontrollore o anche in C ad alto livello sicuramente è utile metterlo su GitHub ti dà visibilità permette di fare delle collaborazioni con tante persone programmi comunque programmare fa sempre bene ad un programmatore più programmi diventi più bravo sicuramente lo studio di programmazione ad 8 bit è diversa da quella che faresti su una macchina moderna e non usi gli stessi pattern che usi nella programmazione moderna sono i pattern non puoi fare programmazione ad eventi cioè potresti anche ma in genere è una programmazione veramente a basso livello certo la vostra passione la vostra competenza vi ha portati addirittura ad essere ospiti a Mupin Talk a proposito di visibilità una domanda che vorrei fare a entrambi avete qualche consiglio da dare a chi vuole accostarsi a questo mondo chi vuole iniziare qual è il modo migliore per iniziare la rete programmazione immaginiamo un giovane di oggi che non ha mai usato un Vic20 quando il Vic20 era in commercio anzi non ha mai nemmeno toccato un Vic20 se qualcuno vuole accostarsi a questo mondo come che consigli potete dargli Francesco? sì allora intanto se è un ragazzo giovane che non ha mai vissuto questo periodo storico deve innanzitutto capire la magnitudo no? perché vedere fisicamente un Commodore 64 non fa capire che proporzione ci sia fra la memoria che c'è lì sopra e la memoria di un un android qualunque cioè bisogna rendersi conto della magnitudine cioè delle dimensioni delle risorse che si ha quindi rendersi conto di di questo una volta che ci si rende conto di questo capire quali sono le diciamo le caratteristiche se ti piace un certo tipo di macchina o un basic più ricco o un basic più diciamo ostico nel senso che più povero di primitive e quindi scegliere una una macchina e leggere il manuale perché una volta i manuali degli home computer non erano altro che dei libri di programmazione se tu leggevi il manuale del Commodore 16 imparavi a programmare questa è una cosa verissima e importantissima il manuale d'uso del Commodore 64 per chi ce lo avesse per chi non ce l'ha lo trova su internet in pdf il manuale d'uso era un manuale di programmazione cioè inimmaginabile adesso ti compri un non lo so un acer un asus un laptop e non ti danno un manuale di 150 pagine in cui c'è scritto come si programma allora era così era normale e anche i manuali delle stampanti nel manuale della stampante io avevo la mps 1200 dentro nel manuale della stampante c'erano scritti tutti i codici di escape questo è il manuale del Commodore 64 e c'è un programma nel manuale della stampante c'erano scritti tutti i codici di escape necessari per farti un intero driver infatti io ultimamente mi sono divertito a scrivere un driver per la mps 803 da far funzionare col pc cioè tu attacchi la mps 803 del Commodore ad aghi a sette aghi al pc o al mac e puoi stampare con quella attraverso il cavo xum esatto se prendi l'immagine più ingrandita vedi che ci sono i caratteri unicode infatti ho fatto un driver per stampare i caratteri unicode sulla mps 803 quindi i manuali di computer e di stampanti erano i veri e propri manuali tecnici e di programmazione esatto vedi che ci sono i caratteri i caratteri cilindici quelli lì non ce li ha la stampante il file che gli ho fatto stampare è un normalissimo file unicode un tf8 con il driver che ho scritto riesci a stamparlo caratteri greci ci sono pure c'è una scritta in danese credo non ti chiediamo di tradurli in italiano quello che c'è scritto è la canzone la calinca Fabrizio tu invece un consiglio da dare a chi inizia questo percorso se il percorso è veramente qualcuno che vuole non solo appassionarsi alla storia all'uso di queste macchine ma vuole programmarle penso che non lo troverà molto difficile perché queste macchine sono più dirette oggi si programma con astrazioni con pattern molto 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 lontani dall'hardware allora si programmava in maniera molto vicina all'hardware ripeto l'analogia col microcontrollore ma allora era ancora più semplice che programmare sul microcontrollore perché si programmava direttamente con il chip grafico quindi per esempio programmare prendere un qualunque computer a 8 bit o con il manuale o con documentazione che si trova facilmente online incominciare a programmare in basic per esempio non andrei direttamente sull'assembly o su altre cose è una cosa che farei anche per scoprire come era la programmazione su quella macchina poi io che sono un retroprogrammatore atipico io potrei consigliare a molti di usare degli strumenti di cross development come CC65 o Z88DK che sono dei death kit per scrivere codice C su architetture Zalog 80 o MOS 6502 questo è per chi già conosce il C e vuole produrre un programma per quelle architetture ma altrimenti sicuramente partire dal basic per scoprire la macchina e sarà facile per chi ha un minimo di dimestichezza con la programmazione grazie grazie ci sarebbe ancora forse molte molte altre cose da dire su questo argomento siamo qui ormai da più di un'ora a parlarne magari ce la riserviamo per un futuro incontro chi lo sa per stasera io ringrazierei innanzitutto i nostri ospiti e ringrazio il pubblico che ci ha guardato in diretta e ringrazio il pubblico del futuro che ci guarderà indifferita un saluto dal passato ragazzi la parola a voi per salutare prima Francesco allora grazie insomma di questa intervista è stato molto piacevole e insomma magari ci sarà un'altra occasione un saluto a tutti Fabrizio grazie per questa opportunità spero che voi potrete seguirci nei nostri nei nostri progetti magari metteremo anche dei link dei nostri progetti che potrebbero anche coinvolgervi in qualche modo e vi ringrazio per averci per averci seguito ciao a presto grazie a tutti buona serata arrivederci alla prossima grazie a tutti